Ciao mamma! Chloe, bentornata a casa, amore! Allora, tutto pronto per la festa a sorpresa di papà? Purtroppo è stato chiamato al lavoro. Posso offrirti un caffè? Sto aspettando qualcuno. Mio padre. Ciao, tesoro! Benvenuti a bordo del 257 della Bancon, diretto a Londra. Il tempo di volo sarà di 6 ore e 30 minuti. Ti voglio bene. Le persone di questo aereo sono semplicemente svanite nel nulla. Chris, fammi entrare! Chris! Rainy! So che volete sapere cosa sta succedendo e credetevi sto facendo il possibile per scoprirlo. Ne stavano parlando in tv. Non è solo qui. Sta succedendo in tutto il mondo. Irene sapeva che sarebbe successo. Mi parlava della profezia. Come faceva a saperlo? Non ho spoiler, non ho flap, non si apre il carrello. Non ho più carburante né spinta propulsiva. Riparate la pista! Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene. Qualunque cosa accada. Papà! Sembra la fine del mondo. Left Behind. La profezia. Dal 29 luglio al cinema.